I carabinieri del nucleo investigativo, collaborati dai colleghi del nucleo cinofili di Palermo del reparto territoriale di Gela, nei giorni scorsi hanno tratto in arresto un uomo di 42 anni residente a Gela. Durante l'operazione di servizio finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga, sono stati sequestrati 140 grammi di cocaina, 40 grammi di sostanza da taglio, un bilangino di precisione e materiale di diverso genere, probabilmente utile per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente. Su disposizione del pubblico ministero di turno presso la procura della Repubblica di Gela, l'indagato veniva rinchiuso in carcere in attesa delle successive determinazioni dell'autorità giudiziaria. Il 6 marzo il giudice per le indagini preliminari al Tribunale di Gela ha convalidato l'arresto ed ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora a Gela e di presentazione alla Polizia giudiziaria tre volte a settimana.